Un caro saluto da Diego Fusaro. In un recente intervento televisivo è tornato a farsi vivo l'immarcescibile Nichi Vendola, punto di riferimento delle sinistre fucsia liberiste, dimentiche delle classi lavoratrici, di Marx, di Gramsci e del socialismo, e puramente funzionali all'ordine del discorso del global capitalismo. Cosa ha detto Nichi Vendola? Ha naturalmente preso le distanze dal generale Vannacci, cosa che è legittimo fare a patto che la si argomenti, ma Nichi Vendola, lungi dall'argomentare, ha usato la pratica della reduxio ad monstrum del proprio avversario. E dunque, anziché confutare punto per punto le tesi certamente discutibili del generale Vannacci, noi stessi abbiamo mostrato i limiti delle posizioni espresse dal generale Vannacci, che dice di essere contrario al mondo al contrario, ma il suo pensiero sembra frutto esso stesso del mondo al contrario, nella misura in cui condivide il neoliberismo e l'atlantismo. Ebbene, Nichi Vendola, senza confutare le tesi del generale Vannacci, ha detto, sic, che il generale Vannacci con le sue posizioni è un troglodita. Ora, questa posizione non reca onore all'argomentare di Nichi Vendola, che avrebbe avuto buoni argomenti in verità per criticare punto per punto le tesi del Vannacci. Ma poi, soprattutto, a che titolo si danno patenti di troglodita a qualcuno? Siamo davvero sicuri che la globalizzazione neoliberale, così come viene propugnata da Nichi Vendola, sia più progressista ed evoluta delle tesi del generale Vannacci, che pure, ripeto, sono ampiamente criticabili? Davvero difendere la globalizzazione neoliberale e il progresso capitalistico a una posizione emancipativa? Davvero sostenere le ragioni della maternità surrogata, come ha detto e ha fatto anche Nichi Vendola, significa segnare un progresso per l'umanità? Siamo davvero sicuri che la mercificazione integrale della vita e del reale, del simbolico e dell'immaginario, sia effettivamente un passo in avanti? Qualche dubbio credo sia lecito coltivarlo?